Siamo a Spalato, pronti per visitare la città durante il periodo dell'Avvento. Questo è il palazzo di Diocleziano, costruito tra il 293 e il 305 d.C. per ospitare gli anni del pensionamento dell'imperatore romano, quelli successivi all'abdicazione al titolo. Ora è una città nella città e fa parte dei beni patrimonio dell'umanità unesco. Come si mangia bene a Spalato, tra carra e pesce c'è solo l'imbarazzo della scelta. Quando il sole tramonta la città diventa ancora più affascinante, tingendosi di caldi colori che si riflettono sul mare. Ma quando scende la notte la magia si erpeggia nell'aria e la suggestiva illuminazione rende l'atmosfera ancora più magica, soprattutto in questo periodo dell'anno. Ciao Spalato, ci rivedremo sicuramente d'estate. Buon Natale!